Oggi linguina all'astice. Io ne ho comprato uno che ho congelato, quindi è morto. Almeno non mi fa troppa impressione. Veloce veloce, a che ci serve? Un'astice, un poco di vino bianco, del pomodoro, del pomodorino tagliato a tocchetti ma giusto per colore, un po' di sale, olio extravergine, prezzemolo, aglio, peperoncino se piace. Io faccio una linguina, ma vanno bene anche la tagliatella, dei tagliolini, le spaghetti. Incidiamolo nella parte centrale. Voglio chiamare mio marito che mi pensa... Ah, è l'immagine. Incidiamolo nella parte centrale con un po' di attenzione. Comunque in maggio vi sono notati anche i video e non lo so gli altri come fanno, forse fanno per risulta la parte finale. Per chi sta trovando un po' di difficoltà. Togliamo l'intestino come per i gamberoni. Rompo le chele con il dorso del cortello. In una padella versiamo dell'olio, l'aglio, pure un po' di peperoncino se vi piace. Aggiungiamo l'astice. tolgo l'aglio se non me lo dimentico. pentola speciale. Posso usare l'acciaio. Spumiamo con un po' di vino bianco. Aggiungiamo il pomodorino. Saliamo leggermente. Trasferito l'astice su un fornello più piccolo ma è già cotto, butto la pasta in acqua salata in ebollizione. ma questo pare che ho salito già. Venga, metti me l'acqua fritta. Due minuti prima della fine della cottura versiamo la pasta. Aggiungiamo pure un po' di acqua di cottura della pasta. Prezzemolo. E un filino d'olio a crudo. perciò. Assaggiamo se è buona di sale. Perfetta. Perfetto. Prezzemolo. Perfetto. 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 Grazie a tutti.